Dopo 121 anni la custodia della Stata di San Teusacchio, opera del maestro di Campo di Giove, trafugata dall'omonima chiesa nel 1902, è stata ricostruita. La mostra al maestro di Campo di Giove è ricomporre un capolavoro e ora al Museo Nazionale d'Abruzzo, curata dalla direttrice delegata del museo Federica Zalabri e da Cristiana Pasqualetti. Il pubblico potrà mirare 13 delle 16 tavolette, con le storie del santo, che un tempo ornavano le ante della custodia e la statua del santo che era conservata al suo interno. I preziosi dipinti e rubati sono via via apparsi nel mercato antiquario e oggi ben otto di essi appartengono al Monda. Le ultime arrivate sono le quattro storie acquistate a Colonia l'anno scorso dalla direzione generale Musei e del Ministero della Cultura. Grazie a varie collaborazioni, soprintendenza, il comando Carabinieri tutela patrimonio culturale e la casa d'Astel Emperz, la cui mediazione ha reso possibile trattativa e rientro in Italia. Altri cinque tavoletti, appartenenti a una collezione privata milanese e la statua del santo, sono in prestito. L'esposizione sperimenta l'uso di diverse applicazioni e supporti per la visita e l'accessibilità. Sono stati realizzati una ricostruzione virtuale della custodia, ma anche un video animato per raccontare ai bambini la storia di ostacchio, un'app per indagare scientificamente le opere attraverso indagini molt rispettali, tre pannelli tattili per non vedenti, la cui modellazione digitale arriva grazie alla collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, realizzata da Simone Rasetti. Ci sono anche pannelli didattici e didascalieni, italiane e inglese. Il Museo Nazionale tiene molto al tema dell'accessibilità. La mostra sarà aperta da domani, sino al 3 settembre. È una mostra fondamentale per il territorio, perché il Museo Nazionale d'Abburuzzo, che nel corso degli anni è riuscito ad acquisire 8 tavolette rispetto alle 16 che facevano parte dei due sportelli, riesce a fare in modo che il pubblico possa usufruire, possa fruire di quest'opera. Abbiamo fatto un'operazione importante perché abbiamo rimesso insieme tutte le tavolette esistenti oggi al mondo, che conosciamo, in questa sala e in più le abbiamo fatte rincontrare con la statua di Sant'Eustachio e non si vedevano dal 6 ottobre 1902.